Salve amici! Salve amici un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che complesso magnifico. Cristiano Ronaldo! E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Beh qui è andata bene, poteva essere punito con il cartellino. E da lì potrebbe anche trovare la porta. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Cristiano Ronaldo! Ben tiro! Sono andati vicini al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per pinto Fabio, ci riproverà. Ultimo passaggio impreciso. Poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Bel gesto tecnico. Attenzione! Bail! Sarebbe stato un gol straordinario. Peccato per la conclusione. Ha provato a fare tutto da solo e c'era quasi riuscito. Tutto perfetto a parte la conclusione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lavezzi. Ripartiranno con una rimessa laterale. Modric. C'è il fisco dell'arbitro e fallo. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve farlo. Ibrahimovic! Il portiere c'è. Bail. Continua ad avanzare verso l'aria. Bail. La mette in mezzo. Cerca di pescare il compagno col filtrano. Benzema! Che fallo incredibile! Che fallo fantastico! Un gran tiro questo! Proprio un gran tiro! L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Ponteggio di 1-0 all'effetto. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E passa! Passaccio smarcante. Ora deve liberare Ibrahimovic! L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cavani. Matuidi. Il suo pallone è... Occasione da rete! È il pallone filtrante. Non è riuscito però a contraddizzare. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Marchignos. C'è Tiro. Il pallone spinge! Il portiere da calcio lontano. Qui deve tirare. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto. Con la giusta potenza. Ma il tiro non era ben direzionato. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Matuidi. Lungo passaggio in avanti. Prova a scallaccare avversari con una palla lunga. Pallone regalato agli avversari. Ibrahimovic. Supera la linea. Gol! Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Cerca distinto la volée. E calcia con grande convinzione. Un gol davvero da Brivini. Si riparte. Di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Cristiano Ronaldo. Il pallone che esce. Non nulla sopra la traversa. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Matuidi. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso. Ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1 a 1. C'è perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rita a testa. Un incontro per niente noioso. Anzi direi molto competitivo. Si entra negli sfogliatori con due gol a referto. 1 a 1. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi. Ma se giocano come nel primo tempo credo che porteranno a casa la vittoria. Bail. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Di Maria. Di Maria. Passolo in balzo. Ottima la parata del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Il portiere ha готовinto blu. Martina Perfone. Perfone. Einima vittima palata. Il portiere ha il portiere di Valencia Torre io. Dottiere. In forker. Passolo in balzo. Autore di un assist oggi. di Radio Algo. Che cosa reperc現在 al paese? Alcuni soggetti saranno schiancati con questa marcatura personalizzata Finalmente si sono resi conto che devono limitare i danni a tutti i costi Fino ad ora si marcava con troppa superficialità Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Ibraimovic, oggi è andato a segno Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato Trova il compagno in buona posizione Ha sprecato malamente, è un passaggio davvero illuminato Questo è un chiaro esempio di quanto possono essere efficaci le giocate in profondità Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza Mokudi C'è la palla lunga, in avanti Mette il turno Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Il direttore di gara decreta un calcio di punizione Matuidi Pallone lungo, in verticale Ha spazio sulla fascia Si libera la grande Ecco il tiro La sua conclusione manca allo specchio della porta La difesa sembrava imbambolata Non sono riusciti a contrastarlo per niente Due sostituzioni, rapida successione In effetti non ne aveva più L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo Lotta per dell'equilibrio Stanno facendo di tutto per vincerla Secondo me attaccheranno fino allo scadere Gioco una palla lunga Ibraimovic Prova il filtrante Arriva nella tre quarti avversaria Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo Uno sforzo incognabile In avanti vuol far salire i compagni La gioca sulla destra Bale Bale Tenta l'affondo sulla destra Va in scivolata Bravo Qui il giudice di gara Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso Ma ora arriva puntuale la munizione Partita agli sgoccioli Questa potrebbe essere l'ultima azione Ora mi chiedo se finirà così O se qualcuno avrà ancora energie Per provare a segnare in estremi Gol segnato adesso Significherebbe una vittoria quasi sicura Modric La gioca in profondità Riceve la palla Intervento rischioso E l'arbitro chiude qui la partita